bello a tutti fornite arts benvenuti sul leon tube mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti in quanto a breve andremo a fare una live in cui regaleremo ad uno di voi spettatori un codice per riscattare una skin quindi iscrivetevi e cliccate la campanellina intanto in questo video andiamo a fare la missione infliggi danni agli avversari con la pistola ad aggancio la pistola ad aggancio è questa qua la vedete la novità diciamo di questa parte di stagione l'abbiamo presa eccola lì si trova difficilmente non è molto facile trovarla andiamo a esaminarla 20 di danni cadenza di tiro 15 caricatore tiene 12 ok quindi una pistola rara che non fa tanti danni così andiamo ora dobbiamo fare 200 di danni quindi dovremo più o meno eliminare un avversario ma sicuramente potremo fare danni anche ai boss quindi andiamo subito a vedere qui nei boss allora non l'ho trovata nei forzieri ne ho aperti moltissimi dei forzieri non non sono riuscito a trovarla sicuramente va banca fortuna e l'ho trovata lì in quel punto su quella nave è stato causa casuale ovviamente perché spawna casualmente ok ora i boss sono qua è la tempesta vediamo però se conta eccoli qua vediamo se conta come diciamo che i colpi sono precisi però vedete che non non conta ah si conta eccoli racconta anche ai boss quindi andiamo a spararli ah ok prima bisogna agganciare una volta che è agganciato il forzieri ecco qui siamo dentro la tempesta ok meglio adesso scappare perché se no eccolo comunque l'abbiamo superata la missione e dicevamo che per trovarla non è molto semplice bisogna essere fortunati non c'è ancora un mpc o perlomeno non l'abbiamo trovata noi un mpc che è uguale ok non abbiamo trovato ancora un mpc che la venda ma potrebbe presto arrivare volevamo provare nelle casse dei boss dei forzieri quindi magari adesso ci proviamo vediamo se ci riusciamo ok siamo qui dentro abbiamo aperto un cavolo vediamo se la troviamo allora nei forzieri grandi non l'abbiamo trovata infatti non c'è ancora ok qui abbiamo un sacco di armi ma niente non c'è un posto dove si trova fa una tutto molto casualmente quindi niente se scopriremo un posto faremo un video mi raccomando se questo video vi è stato d'aiuto vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre ci vediamo con altri video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.